A che punto siamo della partita? Siamo... no, non ci voglio credere. Fuori gioco, fuori gioco. Fuori, 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 fuori. Fuori, fuori, fuori. 85esimo 3 a 3. Speriamo che comunque... se dobbiamo perdere, a questo punto speriamo che pareggiamo. Ma no, dobbiamo vincere. La Nazionale vince sempre. Eh sai, però la Lazio è forte, quindi dobbiamo stare attenti. Allora, hai dato il meglio di te in campo questa sera? Mamma mia, ragazzi, che emozione. È stata veramente un'emozione bellissima. Quando fai gol dentro questo stadio esplode. Come ripetevo prima, ho sentito un fuoco dentro me che saliva piano piano. È stata veramente una bellissima esperienza, siamo molto contento e soprattutto per lo scopo per cui stiamo qua. Ricordiamolo, comunque stiamo a scopo bene.